Mister, una partita che fin dalle prime battute si è rivelata difficile sul campo, poi nel secondo tempo invece il Foggia, quando si aspettava di più la reazione dell'Andria, il Foggia ha fondato i colpi. Sì, è partita forte, lo sapevamo, sapevamo anche la loro condizione. Poi ci siamo messi 4-4-2, ci siamo rialzati, abbiamo preso campo, abbiamo iniziato a giocare, abbiamo avuto l'occasione con Di Piazza, abbiamo avuto anche un'altra occasione, il primo gol è nato proprio da un calcio d'angolo nostro dove su una ribattuta loro sono ripartiti, abbiamo perso un contrasto, adesso non ricordo bene, però c'è poco da dire. Quando si perde in casa 3-0 e si perde aver giunto un derby, se è solo da chiedere scusa a tutta la città, la tifoseria, bisogna rimboccarsi le maniche per poter partire di nuovo e lavorare testa bassa e pedalare. Le critiche ci stanno e dobbiamo far tesoro anche di questo. Non ho altro da dire in questo momento, ma non perché non voglio analizzare, perché poi con i ragazzi cercheremo di analizzare quello che è andato e quello che non è andato, perché qualcosa di positivo c'è stato. Però in questo momento mi sento solo di chiedere scusa alla tifoseria. È un anno e qualcosa che sono qui, non è mai successo un risultato del genere in casa. E quindi è giusto prendere i fischi da loro, perché poi alla fine abbiamo preso tantissimi applausi in un anno e mezzo, poi quando le cose non vanno bene è giusto prendersi anche le critiche. Dobbiamo ripartire, ci dobbiamo ricompattare. Sappiamo che il campionato è questo. L'unica cosa che possiamo fare è lavorare, lavorare, lavorare. Altri rimedi io non li conosco. Che cosa non ha funzionato secondo lei in questa partita? Beh, più che non ha funzionato, loro arrivavano primi sulla palla e le seconde palle non le abbiamo mai prese. Erano più fresche a livello di condizione. Si sa già che magari sotto l'aspetto fisico si è visto proprio la netta differenza tra noi e loro. Non arrivavamo proprio sui palloni. E nonostante ciò, ripeto, poi quando ci siamo messi in una certa maniera abbiamo alzato il baricentro e ce la siamo giocata. Se vogliamo possiamo, tra virgolette, recriminare che nel momento in cui ci siamo messi nel secondo tempo in una certa maniera poi abbiamo avuto il gol sulla pallina attiva. E di lì, secondo me, ci siamo, non dico disuniti, ma non abbiamo cercato di poter ribartare, non ne avevamo più. Abbiamo cercato qualche azione, abbiamo cercato magari più per inerzia che per organizzazione, dico la verità. E quindi c'è da lavorare, c'è da lavorare molto. Adesso ci sono dei giorni per poterla preparare perché poi alla fine si gioca domenica, mercoledì, domenica, mercoledì. E c'è sempre poco tempo per lavorare a livello tattico, a livello organizzativo, a livello fisico. Però questo non deve essere un alibi perché oggi, a partire da me, ripeto, io non posso dire altro che scusarmi con l'intera tifoseria. Ecco tutta la gente che oggi non è venuta a vedere una bella partita da parte dell'Andria. Grazie. Grazie. Grazie.